Scientificast, il podcast per ascoltare da chi prende schiaffi, puntata 404. Cari amiche e cari amici di Scientificast, benvenuti all'episodio 404 del nostro podcast, un episodio palindromo e quest'oggi per questo episodio palindromo ai microfoni con voi ci sono io, Giuliano Greco, detto Julienne. E' Luca. Ciao Luca, come stai? Bene, bene Giuliano, siamo in primavera, si va verso l'estate, vogliamo andare al mare, è qua dove sono io, fa sempre freddo. Esatto, tra l'altro possiamo anche dirlo che Luca è praticamente quasi un cervello di rientro, no? Sì, 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 cerco di tornare verso l'Italia entro l'estate, quindi vediamo. Perché bisogna vedere come sarà lo stato del tuo cervello quando rientrerai, visto che stai facendo una festa di addio dopo l'altra. Sì, sì, ma ci manca ancora un mese buono, quindi arriverò, penso che non potrò lavorare in università, se continuo così. Questo è il rischio dei farewell party che si fanno dopo che passi tanti anni all'estero, poi effettivamente questo è un effetto collaterale. Però si dice, c'era la teoria che si bruciavano i neuroni più deboli, no? E quindi... Eh sì, che quindi rimangono solo quelli più resistenti all'estero, però il problema è che questa teoria ha un buco, perché i neuroni sono numerati, non è che dici, poi li rifaccio, quindi quelli sono... Ne rimarrà soltanto uno, come Highlander. Però l'Highlander non è stato, esatto, esatto. Bene, allora, prima che si spengano tutti i nostri neuroni, incominciamo questo episodio. Allora, quest'oggi abbiamo un ricco palinsesto, io vi parlerò di cacca di balena artificiale, che è un argomento sempre bello, sì, certo. Dai 2 ai 99 anni l'argomento cacca tira sempre un casino. Quando me l'hai detto prima mi sono emozionato, giuro, è bellissimo. Poi la nostra Romina, intervista Gianluca Cappa, che ci parlerà dei gradi di parentela tra matematici, di cui siamo molto curiosi. Infatti, per questa cosa siamo rimasti... cioè, in che senso? Alla verdone, in che senso? E poi Luca ci parlerà di plastica e obesità, dei collegamenti fra questi due mondi apparentemente diversi. Direi che a questo punto, se i neuroni di Luca ancora reggono, reggono Luca i neuroni? Sì, 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 andiamo, andiamo, andiamo. E allora possiamo iniziare. Parliamo di questa cacca di balena artificiale. Cacca di balena, allora, non so se tu ti ricordi, nel 2019, torno all'autunno, sono andato a controllare, mi sembrava uno dei giorni di ottobre, forse i primi di ottobre, ho fatto un episodio con Valeria, in cui si parlava di cacca di balene. E... ti vedo impreparato, sì, lo so, vabbè, ma... Forse avevo iniziato da poco, avevo iniziato da poco, quindi può essere... Sei giustificato, dai, sei giustificato ancora per questo. Sì! In questo episodio parlavamo del ruolo che avevano le balene nel ciclo del carbonio, nel sequestro della CO2, che effettivamente era stato studiato, erano usciti un po' di lavori, ne sono usciti altri da allora, tra l'altro, e questo ruolo della pompa a balena, la whale pump, non so come si può tradurre... La pompa a balena... A balena, certo! La pompa a balena, che effettivamente ha un ruolo fondamentale nell'equilibrio del ciclo del carbonio negli oceani, ma anche nell'atmosfera, ti ricordi? Mi sono ricordato il fatto che formano delle macchie gigantesche sul mare, quando fanno cacca le balene? Cioè, e poi tu hai spiegato tutto il ciclo... No, perché lì c'è praticamente la balena, va a cacciare in profondità e poi risale, e poi emette grandi quantità di cacca e poi riscende, e in questo modo praticamente crea un ricircolo che alla fine sequestra con l'alimentazione delle risorse di carbonio che poi cadono sul fondo e restano intrappolate nel sedimento, quindi sequestrando di fatto carbonio dal sistema. E questo è un ruolo che è stato provato da... ci sono numerose pubblicazioni, ho visto dopo quel 2019 in cui avevo un po' esplorato l'argomento, tanti gruppi ci hanno lavorato e ci sono tanti riscontri di questo ruolo delle balene. Quindi diciamo che il modo migliore per far scendere la concentrazione della CO2 atmosferica, che ovviamente è una delle cose che dobbiamo fare per la nostra famosissima transizione ecologica, dobbiamo comunque in qualche modo diminuire le emissioni oppure sequestrare dall'atmosfera e dal sistema la CO2 che già abbiamo immesso e che continuiamo comunque a emettere, per avere un bilancio diciamo più favorevole per il nostro clima. E la soluzione ideale sarebbe ripopolare di balene, però non è che sia una roba proprio così facile ripopolare di balene, e comunque la caccia alle balene... E ancora... poi ci mettono... penso... Sendo animali così grandi, andando per l'assunzione, cioè ci impiegano molto tempo per figliare... Certo, non fanno le cucciolate da 30 figli, no? Quindi ci sono le strategie riproduttive, quelle che si chiamano in ecologia la strategia R e la strategia K sono praticamente una... Fa tantissimi figli, ne muoiono tantissimi, però ne sopravvivono moltissimi, c'è che invece... Annetto ne sopravvivono moltissimi. Esatto, ha poca... Diciamo fai pochi figli e di questi hai una sopravvivenza molto alta, però comunque sono pochi, quindi... I tempi di ripopolamento sono molto più lenti, no? Quindi hanno una resilienza che qua... Questa parola che si usa tanto negli ultimi anni, in realtà viene proprio dall'ecologia. Hai... Giustificata. Una resilienza non molto alta nei casi in cui si riesca a ripopolare velocemente un... Ma anche poi perché va... Diciamo... Normalizzato per la... Anche per la... Per l'alimentazione, cioè nel senso per il cibo che c'è, no? Magari io non posso avere... È il principio per cui... Perché ci sono soltanto, per dire un numero a caso, 45.000 elefanti nel mondo e ci sono 10 milioni di topi, perché l'elefante potrebbe crescere allo stesso modo, però non lo fa perché non ha né o spazio... Tra l'altro mi viene da pensare che io vivendo nel centro storico a Genova ci sono forse 10 milioni di topi, ce l'abbiamo solo in centro storico a Genova. Io non ti dico qua, io non parlo. Ma tu pensa... Lo sai bene anche tu. Tu pensa se avessimo al posto i 10 milioni di topi, in centro storico a Genova, 10 milioni di elefanti. Cioè... Un disastro, cioè il traffico genovese sarebbe ancora più in tilt del solito, no? È possibile. Meno male che gli elefanti non si riproducono. Mentre vai al mare e ti trovi 10 milioni di balene che intasano... Hai capito, cioè guarda, è tipo le meduse, no? Oggi ci sono troppe meduse, è meglio non fare il bagno. Oggi ci sono troppe balene e non si riesce a fare il bagno. Non c'è abbastanza. Sarebbe carino fare così il mondo dei paradossi, cambiando le strategie degli organismi. Comunque, dopo questa digressione così un po' distopica della faccenda, di cosa voleva parlare relativamente alle balene? Che non potendo ripopolare facilmente la popolazione di balene mondiali, questo gruppo di ricerca hanno messo su un progetto che è guidato da David King, che era il consigliere scientifico del governo inglese e adesso lavora al Center for Climate Repair di Cambridge. E ha messo insieme un consorzio, insieme all'Università della Hawaii, il Woods Hole Oceanographic Institute, l'Istituto di Maritime Studies in India, a Goa, l'Università di Cape Town, un po' di... Esatto, una cordata nutrito, ovviamente anche l'Università di Cambridge, questa bella cordata per fare tutti insieme, per cercare di costruire delle feci di balena artificiali. Molto poetica questa cosa. Tutti che si mettono insieme per fare la cacca finta di balena. Però apparentemente pare che possa davvero avere un ruolo. Siccome questa pompa a balena, diciamo, Sembra un po' una supercazzola. Sembra una supercazzola. È però fondamentale in questo meccanismo, proprio l'escrezione delle feci, il contenuto delle feci, nel ripopolamento del plankton. Quindi cosa succede? Che c'è tutta questa cacca di balena, che aumenta la quantità di fitoplancton, che aumenta la quantità di pesce, che mangia il fitoplancton, che poi il pesce, quando muore, va sul fondo e sequestra il carbonio. Quindi questo è un po' il ciclo. In più, aumenta anche la pescosità del mare in cui si fa questo trattamento. Questo è il rational teorico dietro la strategia. Ora, quello che... Una fertilizzazione, in pratica, del mare. Esatto, fertilizzano il mare. Bravissimo. Questa è la cosa che vogliono fare. Però non è facilmente attuabile come in terra e soprattutto dovresti farlo su larghissima scala. Questa è una delle critiche che ho sentito muovere. Che è quasi uno di quegli esperimenti che fanno molta paura. quelli un po' clima alteranti, quegli esperimenti che devi fare però su grandissima scala perché abbia un effetto. Però loro dicono che potrebbe avere anche effetti su piccole comunità locali, quindi su superfici tutto sommato non così estese, aumentando anche localmente la popolazione di fitoplancton e quindi aumentando la pescosità del mare, come se ci fossero più balene. Quindi simulano, diciamo, la presenza di balene introducendo della cacca artificiale. Questa cacca è interessante perché praticamente stanno decidendo ancora la miscela giusta per farla. Però stanno selezionando dei tipi di sabbia ricche di ferro o con ceneri vulcaniche che contengono poi un bilanciamento fra silicati, nitrati, fosfati e ferro, che è una componente consistente, per avere proprio il più possibile dei nutrienti che si assomiglino a quello delle feci di balena. In più, quello che è stato fatto nel recente lavoro che ho pescato, hanno testato il metodo di rilascio in mare, che questo era un problema. Non sapevano... Cioè, o costruisci una finta balena simulando anche, no, la finta atto di escrezione della balena... Il culo di balena. Esatto, ci vuole anche il culo della balena artificiale. Letteralmente. Si dice in culo alla balena, ovviamente, per un motivo, immagino. Allora, in realtà, quello che hanno fatto, hanno trovato un materiale di scarto, la buccia del riso. In inglese si chiama ask. In italiano credo che si traduca come la lolla di riso. La tusca? Ah, la lolla. Credo che si chiami lolla di riso, che è l'involucro del chicco di riso. Quindi, io credo che prenderanno un esercito di dottorandi e tesisti e faranno caricare queste bucce di riso con questa finta cacca di balena per poi disperdere il mare. Comunque, hanno fatto il primo esperimento, sembra funzionare con la dispersione. Adesso, poi, proveranno. L'hanno fatto in India, a largo delle coste dell'India, e proveranno poi, ovviamente, su una scala apparentemente più grande. Anche perché nell'articolo parla proprio del fatto che hanno dovuto farlo su scala piccola per non andare contro alle legislazioni vigenti di scarico di materiale potenzialmente impattante in mare. Poi, vabbè. Anche perché sei il primo test. È vero che magari sono comunque tutte sostanze naturali, però non puoi sapere che tipo di... Se ne scarichi un camion, due camion, non sai che effetto vuole. Ecco, sarei curioso di vedere, di capire quali sono le quantità, anche perché una pratica piuttosto comune nel campo della croceristica, è scaricare i rifiuti organici e oltre le 20 miglia in mare. Sono sicuramente molto trattati, molto... Mi prendo come impegno per il prossimo futuro di andare ad approfondire se effettivamente c'è già qualche studio che praticamente questa... Noi cerchiamo di simulare le feci della balena, ma forse abbiamo già le feci della nave da crociera che fanno questa roba, no? Bisogna capire qual è l'effetto di... se c'è un effetto di concentrazione. Esatto. Perché magari quelle della nave da crociera non sono concentrate quanto quelle della balena. Quindi magari quante balene è una nave da crociera? Questa, questa è la vera domanda. Questo è il vero... Meditate, gente, meditate. Va bene, direi che dopo questa domanda che vi lascerà col fiato sospeso possiamo andare avanti e lanciamo l'intervista di Romina a Gianluca Cappa. Benvenuti a tutti in questo intervento esterno. Io sono Romina e sono qui con Gianluca Cappa che è professore di matematica. Ciao Gianluca, benvenuto. Ciao a tutti. Allora, Gianluca è esperto di analisi a dimensione infinita. Cos'è la dimensione infinita? Che già in matematica è il fatto che... Vabbè, tre dimensioni, quattro con il tempo. Poi si può ovviamente generalizzare. A dimensione N. Poi abbiamo scoperto anche che c'erano dimensioni frazionari come la dimensione di Hausdorff e là cominciava ad essere un po' complicata. Però c'è anche la dimensione infinita. Che cosa si intende? Beh, il modo più semplice per pensarla è estendere la dimensione N a infinite dimensioni nel senso che ha un numero infinito. Ovvero, per definire la posizione di un oggetto non ti basta più avere solo un numero finito di numeri per indicarlo ma ne hai bisogno di un numero infinito. Cosa significa? Nello spazio tridimensionale per identificare un invocamento a un punto hai bisogno di tre numeri. Una distanza da un lato della tua stanza da un altro lato della stanza e l'altezza del pavimento. Sono le coordinate x. Esattamente. Se ci vuoi aggiungere una variabile temporale cioè sapere quando l'oggetto si trova in quel punto ci aggiunge ancora una variabile. Puoi aggiungerne infinite se sei in uno spazio infinito dimensionale. Questa è l'idea. O almeno per quelli che si chiamano spazi di Hilbert. Poi esistono spazi infiniti dimensionali molto più brutti ma quello è un altro mondo. Ok dai. Quindi non c'è mai limite alla bruttezza della matematica. È bellissimo. È bellissimo. Ok. Però non siamo qui di parlare di cose infinite ma di cose piuttosto finite in realtà che sono come i matematici valutano la propria discendenza o ascendenza. Sì c'è l'ascendenza. Sì sì. E quindi diciamo parliamo di dinastie di matematici. Questa è una cosa che non so se fanno altri ricercatori magari fisici o altri se gli ascoltatori che fanno ricerca o comunque conoscono il mondo dell'accademia in altri campi ce lo sanno dire ecco ce lo faranno sapere sicuramente. Cosa vuol dire essere un matematico avere un alto o basso grado di nobiltà? Tutto parte ovviamente dalle citazioni dalle pubblicazioni e con chi collabori ovviamente. Allora un modo semplice insomma un modo che è stato stabilito è il sapere quanto si è distanti tra collaboratori e collaboratori da un personaggio importante nella matematica del novecento che è stato Paul Erdős. E questo matematico è stato rollifico all'infinito insomma io lo ritengo matto come un cavallo però questo forse è un mio parere è un mio parere e praticamente come si calcola questa distanza molto semplice se te hai collaborato direttamente con Erdős allora ti viene distribuito un numero che è il numero uno se io collaboro con te che hai collaborato con Erdős io prendo il numero due cioè sono distante due da due collaboratori un collaboratore da Erdős e così via fino all'infinito uno potrebbe pensare il mio numero di Erdős che ho controllato è il numero cinque sono quattro collaboratori quattro professori quattro persone con cui ho collaborato tra me e Erdős ovviamente questo numero tenderà ad aumentare col tempo ovviamente sì andò avanti tendrà una cosa però è interessante credo che adesso il numero più piccolo che si possa raggiungere sia il numero qua forse il numero tre se è ancora vivo qualche qualche professore ormai in pensione che ha avuto no questo è bello come i nobi di inglesi che dicono io sono ventunesimo nella linea di successione e quindi no in realtà questa è una cosa interessante che ho scoperto che su Matchinet che è diciamo il database dei articoli di matematica più importante c'è appunto una funzione che ti permette di calcolare se hai nel caso sia pubblicato fatto una pubblicazione e collaborato con qualcuno quanti collaboratori quanti collaborazioni ti separano da appunto da un nome evinente come come Erdashow o chiunque altro anche Einstein si può calcolare sicuramente pensare qualsiasi matematico o Gauss però Gauss non è fattibile perché non c'era non c'era l'index esatto all'epoca ma insomma sicuramente sì no infatti comunque sì questo è strano che è stato scelto proprio questo matematico per perché era il più eclettico probabilmente cioè tra tutti i matematici questo vuol dire tanto ok sì anche perché l'aver collaborato con questa persona è un vanto comunque in maniera diretta o meno sì perché insomma veramente forse se non il più grande è sicuramente il più prolifico e quindi è quello che ha collaborato con più persone in realtà vanta un numero di collaborazioni con la qualunque anche in diversissimi campi delle matematiche cosa un po' rara perché solitamente uno si specializza in un settore quindi vabbè un po' così esattamente un po' come Gauss sì forse che c'è un teorema di Gauss in qualsiasi area della matematica però in materia esiste un Gauss e quindi insomma però come dicevamo rispetto a Gauss che ha ha il grande numero dei suoi risultati però era anche molto molto particolare come personaggio e di che di che epoca stiamo parlando di Gauss no Erdos Ah Erdos è nato nel 1913 ok quindi siamo nel è ungherese quindi siamo ancora nell'impero austrocarico siamo prima della prima guerra mondiale sì gli ungheresi già ne abbiamo parlato nella scorsa puntata con Andrea Bersani del del Gamebots che erano quelli per progettarlo e hanno e hanno raccolto i sassolini sulla spiaggia per vedere quali erano i punti di equilibrio stabile e stabile quindi gli ungheresi insomma hanno un po' questa vena eclettica strane coincidenze probabilmente però sì era molto molto strano questo tipo sì ripeto tra tutti i matematici questo non aveva fissa di muro questo non aveva una casa non aveva un posto in cui libere girovagava un po' per tutto il mondo si spostava di convegno in convegno e cioè non aveva nemmeno una casa non aveva proprietà non aveva probabilmente aveva solo uno stipendio non so da quale università provvedisse e ne dovevolveva la maggior parte in beneficenza cioè per lui si teneva veramente lo stretto necessario per arrivare a vivere a fine mese a mangiare a spostarsi nel prossimo convegno spesso e volentieri credo degli spostamenti gli venissero addirittura pagati perché veniva invitato in questi convegni e di conseguenza cioè alla fine veramente le spese che aveva erano pochissime e anche i suoi averi credo si dice che avesse semplicemente due valigie pieni di roba e quello era tutto quello che possedeva un personaggio tutto strano si dice anche che quando decideva di collaborare con qualcuno gli si presentava a casa e ci stava a casa sua fino a che non completavano il lavoro che volevano fare quindi deve essere dei simoni di Geova un po' più però i simoni di Geova puoi mandare lì a questo punto stava lì stava in casa tua poi si dice anche che lavorasse fino a 20 ore al giorno preso dalla matematica questo è possibile perché questo è sicuro faceva uso di amfetamina quindi parecchia anche e questo gli permetteva di restare svegli appunto per 20 ore al giorno non poco si questo diciamo che fa vedere un po' il caso limite di quanto i matematici diciamo sono strani ma perché la matematica assorbe una certa parte della vita che a volte diventasi quasi la totalità e tutto il resto mi è tagliato fuori anche il fatto che i matematici insomma sono un po' centrici anche trascurati a volte nel vestirsi ne va semplicemente perché hanno la testa da altre parti però adesso mi stavo stavo immaginando i convegni di matematici che diventa molte vere di gente vestita in maniera particolare chiamola così credo che basti anche un dipartimento un ateneo universitario per vedere vari esempi esatto no c'è una storia di Hilbert su Hilbert che aveva la giacca strappata e andava a lezione però nessuno si azzardava a dire a Hilbert sulle stelle guardi che ha la giacca strappata e lui andava in giro poi a un certo punto il suo studente assistente mentre andavano in giro l'ha portato tra i rovi quindi sono passati un po' tra le spine e poi dopo un po' quando sono passati ha detto professore guardi si è strappato la giacca e lui ha guardato ha detto no ma sono parecchi giorni che è così ma nessuno ci ha ancora fatto caso gran uomo sì la matematica probabilmente ti estragna da qualche cosa poi c'è chi si estragna di più come Erdos che si estragna un po' meno molti matematici hanno avuto una vita più o meno normale come tutti con qualche stranezza moglie, figli insomma hanno vissuto benissimo anzi è molto più normale di quanto si creda anche perché il classico matematico del film è che hanno sempre l'abito marrone perché se fai caso i film sui matematici a un certo punto portano un abito con il giacca marrone perché esatto vedete i matematici anzi con il gioco con le borche insomma c'è molto spazio per l'immaginazione quindi per tutte queste bestie strane che sono i matematici vabbè e ok direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata su sulle varie dinastie il il seme della follia che si diffonde tra le discendenze dei matematici perché effettivamente puoi collaborare con alcune persone e diventa anche importante dal punto di vista umano e quindi a volte è anche frustrante dal punto di vista sì può darsi che comunque è sempre sono cose che arricchiscono quando si ha a che fare con grandi menti ok allora grazie Gianluca per essere stato con noi e ripassiamo la linea allo studio virtuale bentornati in studio ringraziamo Romina e il suo ospite e adesso siamo pronti per il momento più amato da grandi e piccini come al solito grande umorismo solo grande umorismo mi hai chiesto di non dirtela ma io non so se riesco a dire questa allora Luca ha una barza io non me la sono fatta dire apposta perché preferisco sempre avere una reazione genuina alle barze e adesso sta tirando come si dice tiri la pietra e nascondi il braccio no mai questo mai allora mai in realtà pensiamo prima una cosa ci sono due tipi di persone in questo mondo quelli che possono estrapolare da dati incompleti esatto io vedo la faccia di Giuliano ed è quella che volevo finita la barza che diciamo che basta brutta però io io ci rido comunque non riesco a non ridere no vabbè vabbè poi in qualche modo è anche collegata all'episodio 404 che è anche l'episodio page not found no 404 quindi vabbè c'è c'è un fil rouge c'è un fil rouge va bene va bene ok non lo so forse hai fatto bene a non dirmi la prima perché era impossibile da dire prima senza appunto senza spoilerarla del tutto sì sì no no assolutamente si prende proprio di sorpresa arriva dietro come una badilatta tra capo e collo dopo alcuni secondi va bene ed è bene ripeto guardare la reazione dell'altra persona ma è finita hai finito but esatto esatto va bene va bene allora siamo arrivati grazie Luca di questo grandissimo momento di umorismo sempre disponibile sempre facciamo del nostro peggio ogni volta passiamo a parlare invece di plastica e obesità o grasso sì allora questo è uno studio abbastanza recente uscito un mesetto fa riguarda in realtà la presenza di additivi all'interno di plastiche che possono essere coinvolti in diciamo modifiche al nostro metabolismo in particolare è stato fatto un'analisi su 34 tipi di plastiche che sono largamente utilizzate nel packaging come ad esempio il polietilene il polietilene del reftalato il polistilene o pvc quindi polipinilclorulo e si è visto che di questi composti ovviamente parliamo di tantissimi quindi c'è un numero come 55.000 composti che sono stati estratti tramite una tecnica che si chiama spettrometria di massa e in cui si va a vedere bombardando praticamente il materiale il campione tutti i piccoli frammenti che ne vengono fuori e da lì si analizza il tipo di molecole che sono coinvolte si è osservato che in realtà un buon numero di questi frammenti che vengono fuori da queste plastiche sono coinvolti nel meccanismo di regolazione e di formazione degli adipociti quindi le cellule che nel nostro corpo sono deputate a contenere i lipidi e i grassi questo che cosa vuol dire? in realtà lo studio getta le basi per un po' più di come dicono qui in Regno Unito awareness su quello che su come vengono preparati tutti questi packaging che vengono utilizzati poi anche per soprattutto specialmente per contenere del cibo ora pensiamo al numerino per esempio facciamo un esempio molto semplice quando prendiamo un bicchiere di plastica o un Tupperware qualunque tipo di prodotto plastico se capovolgete al di sotto c'è scritto c'è un triangolo con un numerino all'interno e quel triangolo con il numero sta ad indicare il tipo di materiale plastico di cui è costituito il prodotto il manufatto per esempio abbiamo 1, 2, 3, 4 che stanno se non mi sbaglio per PET polipropilene ad alta densità o polipropilene ad alta densità polistirene comunque ogni numero è collegato a una plastica il problema problema non problema in realtà il problema è che questi prodotti manufatti non sono costituiti al 100% solo da questa plastica cioè io dico la mia schiscetta o il mio contenitore per il pranzo è fatto di polipropilene in realtà per poter rendere quel manufatto utilizzabile c'è bisogno di addirivare il polipropilene quindi formare quella che viene chiamata una mescola nella quale viene aggiunta non solo il polimero ma anche ritardanti di fiamma che servono per evitare che bruci eccetera degli antiossidanti si mettono anche magari dei coloranti oppure dei riempitivi come talco che servono in genere per abbassare i costi di produzione quindi per usare meno plastica grezza diciamo quindi plastolopoipropilene e quindi tutti questi prodotti che vengono e ce ne sono tantissimi di più io vi sto dicendo quelli più semplici diciamo quelli che più sono più presenti abbondanti e tutto questo però ha un altro problema associato essendo qual è la differenza i polimeri sono lunghe catene quindi sono macromolecole stabili quando formate in un oggetto manufatto anche se hanno bisogno di questi stabilizzatori che sono però piccole molecole quindi hanno basso peso molecolare ed infatti alcuni che sono anche conosciuti sono per esempio gli ftalati che vengono utilizzati come ritardanti di fiamma gli ftalati che succede quando noi utilizziamo il prodotto in plastica faccio sempre l'esempio del tupperware per esempio nel forno riscaldato a diverse temperature o nel microonde eccetera noi induciamo quella che è una migrazione verso il bulk cioè il corpo il centro come possiamo dire della della plastica del polimero verso l'interfaccia quindi in pratica c'è un gradiente di densità per cui la molecola a basso peso molecolare l'oftalato per esempio migra verso l'interfaccia cosa c'è all'interfaccia è il pollo di Giuliano di domani a pranzo quindi ovviamente se quel manufatto viene utilizzato troppe volte oppure con stress di temperatura o in altre condizioni può provocare il rilascio di questi componenti all'interno del cibo e quindi questo articolo ha andato a raccogliere appunto questa serie di frammenti che sono associati per esempio molto colpevoli veri e propri perché per esempio nello studio riportano polipropilene o polietilene poco pochissimo non rilasciano molto anche perché sono abbastanza stabili di per sé come plastica non hanno bisogno di tanti additivi per quanto riguarda quelli più diciamo problematici sono il polivinicloruro il pvc e il pvc è necessario a derivarlo perché il pvc può essere sia in forma liquida o scusate in forma morbida quindi sotto forma di gomma ad esempio i rivestimenti per i capi elettrici o rivestimenti per isolanti a volte sono fatti di pvc a basso contenuto di un reticolante quindi che è una sostanza che permette di regolare la durezza del materiale oppure le canaline di scolo che sono comunque fatte in pvc ma in quel caso è un pvc duro ad alto modulo si dice quindi per fare quello bisogna additivare quindi la cambia un pochino ed è per questo che hanno trovato tantissime diciamo frammenti contenenti additivi nel pvc e nel poliuretano il poliuretano è la stessa cosa i poliuretani sono fatti da dei frammenti più duri che si chiamano domini hard e dei domini più morbidi che sono chiamati soft e il rapporto tra il dominio hard e il dominio soft regola le proprietà meccaniche quindi quanto sono resistenti alla fine della fiera che cosa ne vogliamo ne tiriamo fuori lo studio è un po' come potremmo possiamo dire è un po' superficiale nel modo in cui sono stati analizzati i dati per quanto cioè non lo dico solo io sono anche delle critiche che vengono da altri scienziati però diciamo hanno utilizzato un metodo che è la spettrometria di massa senza un target cioè significa che loro hanno bombardato a caso hanno visto questi frammenti che vengono fuori e poi li hanno testati in vitro per verificare se ci fosse assorbimento e modifica di questa formazione degli adipociti oppure in quale punto la presenza di plastiche andasse a modificare il ciclo di vita della adipocita il problema è il metodo con cui hanno fatto questo come dire l'analisi delle differenti specie chimiche che era un po' troppo ad ampio raggio cioè hanno preso di tutto e magari anche composti che non sono diciamo deputati non rientrano veramente all'interno di un ciclo biologico quindi la cosa è però che è vera e che c'è bisogno di molta più ripeto awareness consapevolezza da parte dei produttori quindi le industrie che producono manufatti in plastica basta pensare anche per esempio alle plastiche che vengono impiegate per i giocattoli per bambini è la stessa cosa un bambino mette in bocca qualunque tipo di giocattolo e lì ci può essere un rilascio di plastica e quindi ho visto che mi vuoi dare una sponda potente perché lo accenniamo qui ma in realtà allora sì io ho una domanda sì allora da quello che ho capito in questo studio hanno cercato hanno analizzato diciamo quali materiali quali altri materiali possono uscire da diversi packaging di plastica e hanno visto che alcuni di questi hanno un effetto che però hanno quantificato in qualche modo sugli adipociti quindi sulla formazione del grasso cioè sì in pratica hanno verificato semplicemente che possono andare ad aumentare il seeding quindi la formazione degli adipociti cioè possono accelerare la formazione degli adipociti quindi tipo che se io sto facendo ovviamente un'esagerazione però se che ne so mangio la merendina col packaging in un modo piuttosto che nell'altro potenzialmente potrai assimilare più grassi sì esatto quindi il danno è la beffa esatto questo è stato correlato tantissimo con il fatto con il problema della pandemia e il delivery fatto di ricevere cibo a casa e c'è stata una correlazione stranissima tra pandemia delivery packaging di plastica aumento dell'obesità hanno fatto una però io non vale però io ho preso 7 chili durante il lockdown tutti abbiamo preso i nostri chili non penso sia per il packaging però no infatti non credo che sia non credo proprio infatti ti ripeto perché ho un po' dei dubbi sul su come hanno fatto però il problema esiste davvero nel senso il fatto che comunque le plastiche siano molto cioè i manufatti finali siano molto più complicati e che contengono aditivi che a volte le case produttrici neanche rilasciano cioè non ti dicono quindi sì allora questo secondo me è la questione più importante dello studio come dicevi tu è fare un po' awareness sul fatto che nel packaging e questo succede anche nel packaging che adesso vendono come packaging biodegradabile sì in tutto il packaging tantissimi materiali non sono mai fatti di una sola cosa ma sono un insieme di componenti e questi componenti sono in percentuali diverse a volte la percentuale è magari bassa ma è una percentuale che è talmente bassa che magari il produttore non deve neanche dichiararla dichiararla però c'è e su grandi quantità e su grandi esposizioni nel tempo magari potrebbe avere anche un ruolo è un effetto lungodermine sì esatto certo e questo ci porta a parlare di una cosa che acceniamo brevemente perché se no potremmo parlarne altre 18 ore ma è un articolo che ha fatto particolarmente notizia in Italia in questi ultimi giorni proprio sulla plastica nel senso che è stato pubblicato su Environment International un paper dal titolo Discovery and Quantification of Plastic Particle Pollution in Human Blood il nome è tutto un programma esatto quindi praticamente hanno standardizzato un metodo almeno stanno iniziando comunque andando verso la messa a punto di un metodo per misurare la concentrazione di plastica di particelle microparticelle diciamo sotto i sopra i 700 nanometri quindi nanomicroparticelle di plastica all'interno del sangue come la concentrazione sanguigna della plastica che ovviamente apre una serie di possibilità nel senso sì perché si potrebbe vedere cosa succede in diverse popolazioni esposte in modo diverso probabilmente anche collegandolo a quello studio di cui hai parlato tu che è un po' antecedente sono collegati sì il studio di cui vi ho parlato è di qualche mese fa questo è di qualche giorno fa questo è il 24 marzo è uscito sì allora sono quasi sono quasi coetanei diciamo quasi coetanei in coetanei in coetanei sono usciti praticamente nello stesso periodo quindi vuol dire che effettivamente queste correlazioni ci sono quello delle plastiche negli alimenti era una cosa più diciamo vecchia questo che ha sviluppato di cui vi ho parlato ha parlato era per lo sviluppo di un metodo o nel senso essere più specifici verso particolari tipi di plastiche o di prodotti che vengono fuori dalle plastiche questo qui delle micro nanoplastiche nel sangue è tutta altra cosa però direi che magari ce lo studiamo e per la prossima puntata lo portiamo in in podcast perché secondo me vale la pena parlarne sì lo guarderemo con calma però da quello che ho guardato anche insomma leggendo il paper non con l'attenzione che avrebbe dovuto che avrebbe richiesto mi sembra di capire che abbiano fatto davvero un esperimento preliminare sì in cui hanno cercato di vedere se riescono a trovare delle micro plastiche all'interno di campioni di sangue diciamo hanno testato il limite di rilevabilità come si usa dire in analitica per verificare questa è la presenza di plastiche quindi qual è la concentrazione minima parliamo di microgrammi millilitro non è pochissimo in realtà poi tutto da vedere da vedere se ha un effetto certo ovviamente se c'è qualche problema nella procedura che sembra accurata però sai lì anzi lì secondo me Luca tu potresti guardarlo in particolare perché la procedura potrebbe essere qualcosa di chimico che tu hai più competenza ancora per valutare come affidabilità affidabilità o meno perché è molto tecnico sì va bene lo guardiamo bene per la prossima volta ne parliamo infatti non l'ho non l'ho trovato questo ti giuro se l'avessi se l'avessi trovato prima ne avrei parlato oggi però va bene ne facciamo un follow up per la prossima volta ci sta bene allora direi che siamo giunti alla fine dell'episodio not found 404 io riderò sempre a queste cose non mi puoi non mi puoi cioè vabbè siamo comunque vi raccomandiamo di non preoccuparti di non farvi prendere da paranoia da plastica ecco dopo questi discorsi che abbiamo fatto perché questo pensiamo piuttosto a riciclare a evitare di buttarla per strada piuttosto che pensare ai microgrammi che potrebbero essere nel nostro sangue o nel grasso quindi esatto questa è sempre una buona una buona norma riciclare tutta la plastica che si può riciclare mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi e mi sono dimenticato di chiedertela c'era una forse leggenda metropolitana che diceva che su alcuni contenitori di plastica è indicato il numero di volte che si possono riutilizzare questa era non mi ricordo sapevo c'era questa cosa oddio non è indicato espressamente però come ogni tipo di prodotto manufatto di questo tipo ha un ciclo di vita nel senso si può il riciclo devi pensare che riciclando già una volta tu vai sicuramente a perdere quelle che sono le proprietà del prodotto diciamo uno il primo quello da qui per esempio se ho una come si fa con il con il pet con le bottigline e il pile cioè sono prodotti che vengono aspetta però tu parli giustamente di processo di riciclo cioè io prendo una cosa la metto a riciclare questa diventa un'altra roba e ovviamente ha un ciclo e lì si c'è un ciclo limitato legato alle caratteristiche del materiale invece quella leggenda che ho scritto io che su alcuni contenitori di plastica dicevano le bottigliette secondo me questa cosa qua io non ho mai visto c'è scritto proprio il numero di volte che tu puoi usare la bottiglietta svuotandola e riempendola prima che questa incominci a rilasciare cose e a me detto in francese mi è sempre sembrata un po' una vaccata ma pure secondo me dipende secondo me allora il fatto che ci sia il numero non lo so questo non lo so no perché secondo me il numero viene scambiato il numero che il numero del codice identificativo del polimono del materiale esatto con il codice identificativo del materiale è per quello che mi è venuta in mente questa leggenda metropolitana tra l'altro uno mi pare che sia anche il pet se non mi sbaglio i numeri non li ricordo preciso quindi la bottiglietta dovrebbe essere uno quindi che vuol dire scusami che lo prendo una volta la puoi usare una volta poi non la puoi più riempire per utilizzarla è la lobby delle vorracce di alluminio queste infatti che però dai ci sta c'è una ci mancherete allora la cosa del rilascio sì esatto il pet è uno ho controllato adesso perché non mi non mi ricordavo la cosa che rilascio è vera ovviamente se io lascio una bottiglia d'acqua al sole quella bottiglia la uso 700 volte riempendola magari con acqua acqua dura del rubinetto che ha 7 litri di calcare un litro di acqua è normale che su 10 anni magari 10 anni dai tanto però su un annetto quella bottiglia d'acqua mi inizierà a rilasciare cose però là entra anche in gioco come viene tenuto il prodotto assolutamente ma infatti tutto dipende dalle condizioni va bene scusa questa digressione ma dovevo chiedertelo ero era rimasta appesa la domanda avviamoci allora verso davvero questa volta verso la fine dell'episodio vuoi dare tu i contatti? sì allora guarda mi passi la palla perché io li dimentico sempre allora ci provo ci potete trovare come sapete su tutti i social facebook su instagram come shigast ci trovate su twitter e nel nostro nella nostra lobby vera che è il gruppo telegram quindi se volete venire a far parte siamo più di mille membri quanto siamo? più di mille secondo me abbiamo sopprati mille benissimo e ci sono sempre tante discussioni molto interessanti e ultimo ma non per importanza se ci volete dare dei soldi per autosostenerci allora potete fare una donazione su paypal e pagateci pure quanto volete non c'è non c'è limite a quanto potete pagarci esatto lì proprio libertà libertà totale poi ovviamente come al solito se volete scriverci c'è il nostro la nostra mail info a scientificast punto it noi cerchiamo di rispondere abbiate fede risponderemo a tutto però è importante perché ci dà tantissimi spunti anche per le puntate del podcast quindi continuate a scriverci bene allora a questo punto vi diamo appuntamento al prossimo episodio e usciamo da questo 404 palindromo episode not found e alla prossima ciao ciao a tutti ciao a tutti